io mi chiamo bianca e ho 10 anni questo è il mio primo video in cui farò vedere una tecnica di fare una riga poi bisogna cominciare a fare i puntini poi comincia a fare così piccolo è piazzolido ora sulle montagli? è piazzolido un po' così Grazie a tutti. Ecco, questo è il risultato finale. Mi raccomando, mettete like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!